esatto si, non abbiamo tirato io ho tirato, ho fatto 6 ok ho fatto 6 guarda se tu hai fatto questa fermazione vuoi dire che sta giocando bene lì vedi tu soprattutto finchè sta usando paint oh shit non so scrivere o buttare via 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 oh madonna 1,2 e non parto ho finito mi sa che la partita normale ce la sono io, non sto staspefermi non sto staspefermi giavolo ticaz eppure li topo perché si si, non topo perché quello che uscito dopo fa ancora più stico sono gli usciti prima, il classico storico non ci vado niente anche io guarda, sei fatta, è in cima, trovo, c'è una notte, fai schifo vai facciamo anche oltre a far vedere buona vai scatto queste cose ecco che ho trovato lo spazio per il pixel di prego si ma io non so dove vado questa mano cos'era? è il demone originale che prende il tasto ah si può avere quattro 4 ma tanto per mazzolie e poi sono gialli prima adesso ah no metto c'è qua c'è direci non c'è direci non c'è direci lo faccio anche io tanto aspetta oh ma questo mazzo qua è sempre briccante non posso far di l'assist a è così e anche Vado a prendere il clown Vado a prendere il clown, bello, mi piace Fate entrare il clown I gioiosi clown L'acqua, le mie Io ho detto sigla di quattro, sigla di tre Uno di scocche Madonna, Madonna Marina non vuole abbricare a vaga Questo che tu bricca solo Io ho detto vabbè Intanto chiedi perchè l'hai utilizzato Ma no, ma se non bricca non è terreno Eh appunto quando non lo fa Guardalo, guardalo Guardalo Il scocchino, no? Sì Mi permette di tre Non da passare Ok L'abbiamo fatto Vado a prendere direttamente l'altro L'abbè Statico Vado a prendere L'abbiamo 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 a prendere Che me laissione L'abbiamo a prendere Eccoci Ah l'hai fatto dire? Si sto pensando cosa guarda in mano Questo deve stare su Ok Eccoci 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 E' Eccoci Vado a 15 15 faccio 15, vado a 18 Quella di uscita di arco era questa? No, questa qua Tutta questa e vai, torna bene Vanguard? Ahia Sì Un salto Un salto Un salto Ufficio Un salto Un salto Un salto I altri Un salto questo sono un momento di la sua vita io sono spiegato che stava a mangiare e poi ho smesso di mangiare e anche di giocare ah sono verrati mi rimbambola la zona del santo, c'è la bella e vorrei anche il rosario show lo c'è un po di acqua No, di tabù, me ne frega, sì, me ne frega, no, di tabù, tanto è togliere il stock, normalmente con il stock. C'è troppo esistente. Posso decidere? Lo smassi, lo smassi, avanti, attimo il biglietto. Ah! Dov'è? Ma ci vai, ci vai, poi ci guardiamo, indirizzo? Sì, c'è qua. Inoltre, Grazie. Ha ordinato un altro tra l'altro di noi. Allora, io ero già... 5, scelgo un carto di sopra, chiama. E basta. Basta la mia, ti metto in sol questo. Peekaboo, cibi uno. Sol di astuno. E ti metto in sol quella l'altra. Se l'ho svolgeggiato un due o più, svolgello un due. Ho preso l'altro. Ho preso l'altro. Ho preso l'altro. Ok. Ticchio con lui, mando in solito il pescollo. Faccio il cibi. Svolto poco. Slocco l'occo fino a tre carte. Ecco lei. Slocco uno. Slocco uno. Slocco uno. Slocco uno. No, questo l'ho locato di Streis. Ok, questo? Per la sua speed. Uno, due, tre. Slocco uno. Slocco uno. Lui si locca. Quanto c'è? Vai. Passo. Slocco uno. Ok? Le ca' un co?! È buono. Vai, si e losels mi loocca. L'altro pesco. La seconda pesco molto. va bene che c'è il clown che ti slocca le cose chiamare fuori una di questi no dove è il clown e altri piccini e come se non lo ballo si questo giugno con questa la città la città la città ma il giugno il giugno il giugno il giugno il giugno il giugno Che schifo! Ma perché tu c'hai l'odio per la granatura? Certo che odio per il panda, maledetto! Ma se non il compasso è un leone! Mi interessa, è tutto il contesto! Spero di vederlo cercando adesso! Non ce l'ho fatto mai giù! Chi mi fa con me? Ah, lo ritenevo giù! Mangio due! Eccs tre! Eccs tre! Eccs tre! Eccs tre! Eccs tre! Tre! Eccs tre! Ma questo è il צare Eccs tre! Davvero anche 18 luonghi al vice di Dolby Che entra in solo... Quelli che hanno fatto c'era... Questi qua... Sì... C'è il notario... Sì... Penso se pescarci... La storia... La storia... ... 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 il nostro con l'arrivento eeeh 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 probato visto l'altunale Sì, io non ti parlo. Sì, io non ti parlo. Oh, oh, oh! Non si prego ci deve. Non hai paura. Non hai paura. Tu sai che se avessi avuto... Non c'è una tesina. Qua che ho io sono opache. Sì, sono tutti. Quindi... Doppia Gialdian. No, dottor Scotti. Non è per passare. Oh, yes. Non è che penso sui usare l'effetto di... Cazzo di conventura. Grazie. Scalto vesco. Vado? Chi sei? Ah, non c'è. Niente. Niente? Però qui? Ok. Ok, ok. Ok, ok. Scalto, scalto. Scalto, scalto. Scalto. Pitto plasma, attimo di qua. Pronto. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Cerca solo due e si stenda. Ah, meglio. Da dietro questo, quindi, in volta che si stenda, ha un pezzo che si stenda davanti. Ah, meglio. Da dietro questo, quindi, in volta che si stenda, ha un pezzo che si stenda davanti. Sì, no? Sì, impressionante. Quello lì si stenda da solo perché... Ah, il tempo va dentro. Adesso, vedo cosa scegli. Allora, queste... Due tornano in mano. E le scalte. E le scalte. E le scalte. Tu fai tutto quello che vuoi? C'è l'occhio che si stenda? Sì, sì. Scatto... Scatto... Scatto sta cosa. Devo parlare di un tassi per top. Eh, ce l'ho provato anche io, ma non lo so. Non mi spiego. Non so se giocare alla tizia con l'axe. C'è la servietta nuova, oppure... O persona, dici? Eh. Non so. Perché con la col persona c'hai l'order. Che non è male. Ah, sì, è vero. Beh, poi puoi usare con quella di vivo, eh? Si, lo so. Però... Quanta, cinquanta. Quanta, cinquanta. Cinquanta, tre, so ne so. 21, 31, 41, 40, 31, 36. Si, è vero. Ah, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, Gialle, 57, 7, 6, 6, 6, 7, 7, Ho fatto il turno di Strader Banzi? No, però c'è solo 9 maschi finito che lo fa e distende le mazze Io non è che giochi solo c-cardi Un altro di Banzi sul Gold Booster più questo che ci stende ancora quello di Master E' quello che a me in quest'anno se fossi riuscito a vangare ma... C-cardi del mozzo? Un 4 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 Proprio che tiro fuori di Aria e poi lo faccio Peccato che non hai visto quello che fa lo stesso? Eh, non l'ho visto, c'è dopo averlo e poi te la lascio Sette, cinque, dodici non ce l'ho dito Sì, non c'è Non c'è altro quello che c'è 5, 2, 1, 3 Bravo che ho messo la chimera che ce l'ho detto io Fa una standard della Madonna la chimera La chiami in retro per fare prima piccione poi chiami Drago Poi te lo mangi con l'herry chiami piccione un'altra volta Picchi di chimera e ci viene ancora per piccione Ma io se ti vedo altri ghiere in difesa piange Stacco Piccione Gio, hai dato ragazzo? E no, e no Non c'è questo qua No c'è questo qua Ok, poi voi visto Asi Andi Sei Sera Ok Siamo uviunkio Brennale 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 Siamo uviu brennale 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 17 vaga niente niente allora 22 vaga se vaga il sol il sol il sol il sol 15 15 15 16 15 16 15 15 colonna critica 44 44 quella 23 neanche trovo basta uno blocco solo questa scusa 10 adesso abbiamo 25, 36, 5, 10 faccio schizzare il massimo sull'icchia faccio canto a cercare 23 dove? ho un'intilazione solo se scrivi sto mi sembra che mi avevo chiamato solo un minuto io credo che fai un toro con questa scusa esco stride dovrei fare così ok ok joke guardate in marzo non voglio aspettare voglio giocare una donna cara io ti ho preso una cosa oh signore santissimo io l'ho vista e ho detto basta glielo prendo a Ricky mamma mia sei contento? guarda nel caso se troppo speciale ci sono anche le istruzioni dentro e ho notato che può diventare anche un coccodrillo o un castello sento odore di cucchiata io ho dato un lego che ha forma di trattore ma per forza e soprattutto puoi giocarlo perché è più di sei anni vince cioè è proprio è proprio vesbo troppo fiero troppo fiero allora magari pesco 100 mi distraggono con le cose fiere no è uno dei lego questo è questo c'è la pescavamo un po' e poi funziona ti sei magari lo ti è ancora dentro il pesco è uno tipo a trattere eh non lo facciamo passa stendiamo 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 ah sì c'è questo lei no ci vuol tre fünf non un passo digitale faccia senza skill? 31 beh che ha fatto strides 31 no, sono 16 26 30 ti sei pari 31 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 32 31 34 35 35 36 37 37 37 38 39 40 40 41 41 41 42 42 42